Allora Siamo tutti platini Cioè con le cornice almeno Quindi l'elo penso sia quello Platino 5, Platino 4 Warwick senza cornice Si vede che sta la smorfando Oppure ha un nuovo account Allora facciamo il culo Facciamo il culo a questa Honey Spero non mi faccia il culo lei Io che perdo la lane con Syndra Non è Non è fattiglia Cioè no Lo è però la perdo molto poco La lane con Syndra Poi Annie non è molto difficile per Syndra Cioè dipende se mi fa flash ulti Si Però io devo snowballarla dall'inizio Altrimenti rip Però possono invaderci No Certo che aspettavamo Kha'Zix Eh ma anche se fai S-A-L-S-A Bla 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 Cambia proprio niente Ti lascio una pallina Aspetta che devo fare una cosa Allora Game No Com'è che era interfaccia Show spell costs Ok perfetto Mi piace vedere le spell Minions ha spawned Quanto è nuvoloso qua Però fa caldissimo lo stesso Che counterplay ha Annie Devi prendere qualcosa Che abbia più range di lei E diciamo che non ha un range molto alto Oppure qualcuno che la barsta Tipo Syndra Però bisogna stare attenti comunque Perché Stavo per attaccarla lì comunque Tandalor di easy Va a lastrittare il mina E non la picchiamo Easy ragazzi Vedete Annie è molto vulnerabile da questo punto di vista Perché Deve costantemente La stittare con le spelle E te ne accorgi quando lo fa Quando lo fa la picchi Però questo ha un lato un po' negativo Ovvero che sto pushando la lane E lì si nel jungler Allora lui è iniziato dal blu Questo vuol dire Che potrebbe già essere la sua red Visto che potrebbe essere già la sua red Mettiamo una ward Ha già stata una pozione Questa è una brutta Ok Lei ha counter pushato Cosa mi va parecchio bene No Una missa Non voglio rischiare di perdere il cannone Quindi Utilizziamo la spelle Qua pushamola un po' Perché altrimenti ci troviamo Mille milo sotto torre Ma Annie Ha recallato Ma non ha recallato Ma che cazzo ha fatto Inizia ad attaccarmi Oddio come cazzo ha schivato No scusatemi Ora mi devi spiegare come ha schivato Cioè E questo è quello che non doveva succedere Questo è quello che non doveva succedere Purtroppo Questo è quello che non doveva succedere Non doveva succedere sta cosa Perché altro non ho capito come ha schivato lo stun lì Boh Mi è sembrata un po' strana sta cosa Un po' culo Però vabbè ho usato flash ignite Free gank mid No flash Questa cosa non mi è andata giù eh Spero che cazzo riesca a sfruttare il fatto Che lei non ha più il flash Perché se riesce a farlo La killiamo easy Madonna Oh Madonna Santa Questo è tutto NRG Maledetto NRG Allora lei tornerà sicuramente Con la Con la cosa della Dell'extech Con la prova del green Io devo smetterla di pushare perché Sennò Kazix non può gancare No ok È tornata con qualcosa Ma Lo ammazzo Ci ha marotto il cazzo Starà arrivando Lissin Ha rotto il cazzo Doge è troppo Strano Doge è in modo strano Non riesco Ok Vaffanculo Eh lo uso anch'io il flash adesso Solo che non ho usato l'ignite Usciamo questa way Sperando che non arrivi lissin Ok lissin è là Chi di flash ferisce Di flash perisce Disse Una volta Il saggio Ok Io però Per esperienza Per esperienza Mi farò il Banshee Mi ruscio il Banshee Anche se Avrò un po' poco umana Ma Non devo lasciare ne fidarsi La zig scappa Tanto non ho il flash Non ho il flash Ok By force of will By force of will Allora Resinstalla Mmm Questa è bad Purtroppo così Ho poco umana Però Ok Li faccio malissimo Lei non ha resistenza magica SS Perché nessuno mi ascolta SS Annie Perché nessuno mi ascolta Lei ora va sicuramente Bottrin Porca puttana Oh Eh me 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 Sono una piccola Sei Me Che cazzo l'ho detto Che cazzo è andata Annie Forse ha il flash Anche lei tra poco Di nuovo La può uccidermi Devo stare attento Perché sicuramente Fria flash che ignite Di nuovo Oh Non ho avuto Il cazzo Ok Lul Allora faccio queste Quelle e me ne vado Quindi lascio Pushare A quante stack Di sto Ok Niente No no Stiamo fermi Ci può Può fare flash Tibbers Bla 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 Esattamente Vabbè Almeno l'ho usata Su cosa Minca Main Eh no Ah già è vero Allora Allora Sei umana Per l'ultima Q Beh 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 non puoi uccidermi Ok andiamo back Ho formato Un po' più di lei Questa qui però Me l'ha perduta No c'è il cannone Non posso andare Non posso andarmene Non posso andarmene con la wave Con la wave sul cannone Come fanno a farsi killare Ma non ho mana Hai notato che non ho mana Ok Ciao Ciao I'm vivix Vabbè il game Non credo che lo perdiamo Però Certo che se continuano a far così La cosa non aiuta Ok ho la banca Ora posso mettermi il morello Ora posso mettermi il morello Allora io provo a scrivere Chill guys Don't tilt We got this E poi muto anche di ping 2-0 3-1 Ma vabbè 3-1 di Lee Sin Non è che sia questa gran cosa Tiriamo via sta Pink Ok Ma devo stare attento a Lee Sin Questa Questa è fragilissima E' fragilissima Pensa che la killo anche così Ok Arrivato Lee Sin Che palo Ma perché ogni volta Deve esserci Lee Sin qua Che noia Ma è una volta che io Faccio una cosa aggressiva E il jungle Non so Sta tipo qui No Mannaggia Sì ma che schifo Che fanno questi due Dai La nostra botta Mi fa un po' cacare Oh Morto Brand Buona Warwick Se tu attaccassi lei Magari invece che i minion 3-0 Riven 0-3 Warwick Yeeeh Vabbè Vabbè raga ho capito Sto game è andato Se continuano così Sto game è andato Molto probabilmente Dovrò fare una notifica Che toglie le Le annunci delle morti Così non ti demoralizzi Sapete cosa succederà adesso Torre bot Torre top andata Sapete cosa succede Inizia la Lara mid Arriverà Riven E arriveranno anche Arriveranno anche la bot lane Che già è qua Prima si faranno il drago Immagino Mi prendi per il cazzo di culo Mi prendi No vabbè Che culo Che culo E io non posso neanche farmi il blu Che culo ragazzi Quando i game Iniziano ad andare così male Guarda questo Cioè fino a lì L'ha inseguita Peccato che non abbia preso L'assist Beh almeno è morta Peccato che non ho preso L'assist però va bene Allora mi serve questo per forza E poi ok Perfetto Vorrei tanto il blu Però Vedete come la Banshee Sia un deterrente per Annie Perché Non la invoglia A fare i flash ulti Perché non può Dove prima togliermi il Banshee Questo è stato un bel colpo eh Eh vabbè però Qua ho fatto un bello stun Peccato che Annie ha usato flash Ignite Ma scusa Io volevo prendere lui Non Cioè io volevo prendere il golem Non il Come cazzo si chiama Il minion E la palla Ma mai meno Ma questo è l'abbonamento Al double buff Ok Ho il Banshee Di nuovo Dai blu Carricati che mi servi Ops Donna quanto mi viene nervoso Quando schivano solamente Camminando Ok Ma come fanno a morire Così tanto Che palla Io volevo Stompare la lane Oh mio dio No ho sbagliato Eh sono morto Vabbè Sono morto Super Aram mid Super Aram mid Ho sbagliato a ultare Ho sbagliato a ultare Oh bello Perché non hai continuato Ma perché La gunblade Perché non hai continuato Scusa Mi era morto Ma non ho capito Ma Riven Ha attack speed per caso Vabbè Fammi andare a Farmare qualcosina Va Riven sta buildando Yomu Mi sa che fa di letality E va bene contro di noi Perché non abbiamo tank A parte Warwick Potremmo prendere un drago? Ok Mi manca poco Vare il morello Semmessa il relay Semmessa il relay Annie No bec Anzi no Differenza tra jungle Si sente tanto Però noi abbiamo Kazix Lorely Scene Quindi Un po' viene mitigata Sta cosa Non la posso shottare Perché il relay Ha molta vita Arrivando Riven Ecco sono fatti il drago Ma io non capisco Come facciola a morire Dal nulla Riven mi shotta Ragazzi Penso di si Penso che Riven mi shotta Si vuole venermi addosso Adesso Voleva fare Flash Flash Per stun Mi sa Ciao bella Box box Wannabe Box box Wannabe Potevo anche Non flashare Ok Ciao cabonk Can I dig it Mi sa che io Dovo farmi la zona Sì sì Anche se vorrei Aver tanti danni Perché Riven Non posso farmi la zona Ho già la bunch Come oggetto difensivo No mi farò Il Rabadon Mi faccio il Rabadon Anzi Anche il Luden E' buono Perché mi da Mi da Movement speed In che modo Non l'ho presa Nooo Non l'ho Ultata Vabbè E' buona Perché Nino Flash Uguale Lei non può Stunnare Perfetto Qualcuno va Da Riven Ah mannaggia Ah anche L'Extrinker Wow 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 My bad My bad Non l'ho visto Perché abbiamo Why We have An Ezreal AP Non in maiuscolo Magari Why We have An Ezreal AP Ah già che non possono Rispondermi Che li ho mutati Eh la Banshee Mi avrà pure Ralentato la build Ma Annie era molto Aggressiva Non potevano farlo Sarei stato Con otto morti A quest'ora Poi tutti quanti Venivano in faccia No Il Banshee Mi aiuta Anche per la freccia Di ascia Per esempio Il nostro bot lane E' veramente Non dico Inutile Ma Molto Molto Bad Mamma mia Cosa mi tocca Vedere Cosa mi tocca Vedere No Volevi il red Eh puttanella Death has been Eh sì Cioè sì L'ho detto anche io Cioè noi siamo senza una D-Carry Noi siamo senza una D-Carry Ragazzi Sì ma Sindra Non è mobile Ecco fa sia danni Ed è anche mobile È quello che è sbagliato Sindra è Cioè È totalmente immobile È una stazione di Missilistica Se stai ferma Spari e basta Ecco invece ti fa Mille salti Sì Kabonk Almeno ho ottenuto Il fa Ma cosa sto facendo Stati Interessante Molto interessante Almeno abbiamo preso qualcuno E io sono stramorto Mi piace il nostro focus Senta ragazzi Questa è persa purtroppo No non ne faccio un'altra dopo Questa è persa Perché la nostra botta Le ha hintato Ma veramente tanto Anche Beh Warwick un po' meno La nostra botta Le ha hintato troppo GG Nice hinting Nice Stroll build E niente Che abbiamo perso Non potevamo farci molto Purtroppo Cioè io ci ho provato Se noi andiamo a vedere il grafico Dei danni Se andiamo a vedere il grafico Dei danni Adesso Potrete 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 notare Potrete notare Se magari Magari esce Allora Loll Vabbè Perché era P Però se guardiamo i danni totali Eh Appunto Appunto I danni totali Sono un'altra cosa Perché senza danni AD Non aveva un cazzo Vabbò Vabbò